A Ostia non ci si capisce più niente. C'è un presidente che ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco dicendo però di riprenderselo se verrà aiutato e tutelato. Da chi è da cosa ancora non è chiaro perché la posizione di Andrea Tassone è piuttosto ambigua. Per alcuni è un santo, colui che si sta sacrificando per fare in modo che su Ostia e il litorale romano più in generale si accendano i riflettori per stroncare il malaffare che la governa da decenni. Il rovescio della medaglia lo vede con l'uso col sistema, manovrato, uno dei tanti. Da uno dei mamma santissima dell'indagine mondo di mezzo, Salvatore Buzzi, che al telefono con la compagna parla del presidente del municipio e di appalti da acquisire grazie a lui. E poi c'è la questione caserma dei vigili urbani, una stranezza su cui sta indagando lo stesso Sabella, nominato da Marino delegato al litorale e che aggiunge altro imbarazzo, in una situazione che ne ha già troppo. E mentre il presidente di missionario, mercoledì verrà ascoltato in prefettura, nel municipio vista mare già si parla di voto. Da una parte perché la supergiunta, promessa da Marino, per aiutare il minisindaco pare non trovare figure autorevoli disponibili. Dall'altra, perché l'opposizione, che ovviamente preme per andare al voto, ha già cominciato una campagna elettorale che in ogni caso, anche se non si votasse, avrebbe comunque un effetto sfiancante su una nuova giunta. Marchini ha già un candidato, un generale della Guardia di Finanza, per fare piazza pulita o almeno per provarci.